Il ciclo di lezio divina che l'Arcivescovo Metropolità di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, tiene durante la Quaresima, fin dal 2007, dopo il suo arrivo alla guida della Diocesi di Napoli, continua con gli appuntamenti dedicati al primo libro delle Cronache, composto da 29 capitoli, in cui sono descritte le diverse genealogie, partendo da Adamo e fino a Davide. Nella parrocchia San Giorgio di Afragola, in provincia di Napoli, e nella chiesa Cristo Re a Rione Berlingeria Secondigliano, il Cardinale ha spiegato i fedeli versi in cui Davide parla con il profeta Nathan, mandato da Dio, per farlo riflettere sul male compiuto e indurlo al pentimento.